Sì, grazie Presidente. Intervengo brevemente per riportare i risultati delle determinazioni della Commissione Capitolina e Patrimonio che si è determinata in modo negativo nei confronti di questa deliberazione, principalmente perché da questo strumento viene chiamato osservatorio ma analizzando più attentamente la delibera non si comprende quale sia lo strumento proposto, se sia un tavolo di coordinamento tra uffici oppure se sia effettivamente un osservatorio e quindi uno strumento civico o altri strumenti di partecipazione e questo si rileva anche nel momento in cui si va a vedere quali sono le finalità perseguite da questo strumento tutte finalità per carità condivisibili in parti e necessarie dall'altra, tuttavia non è solo questione di nome ma è anche di strumento per definire quali siano le determinate finalità perché alcune finalità possono essere perseguite con uno strumento e non con un altro. A nostro avviso è stato fatto un purpurì di quelle che sono le necessità poi in fin dei conti ma non è stata strutturata bene questa delibera affinché possa essere votata favorevolmente in tal caso e appunto oltre a portare in aula la dichiarazione di voto negativo su questa delibera porto anche in aula le motivazioni che hanno poi spinto la Commissione a votare negativamente e preliminarmente su questa delibera in modo negativo. Grazie. Grazie.